Buongiorno a tutti. È di questi giorni la notizia del parere reso dal Comitato Europeo per i Diritti Sociali su un reclamo proposto dall'ANIEF nell'interesse dei precari della scuola italiana. In particolare nel reclamo era stato censurato l'operato dello Stato italiano laddove in occasione del piano straordinario di assunzioni di cui è la legge 107 del 2015 si era limitata la possibilità di accesso al piano straordinario solo ai docenti precari inseriti nelle graduatorie ed esaurimento lasciando fuori migliaia di precari anche con anni e anni di servizio per il sol fatto che non erano inseriti nelle GAE. Questa condotta dello Stato italiano per i reclamanti sostanzialmente andava a violare i principi comunitari e il principio di parità di trattamento. Secondo il Comitato Europeo sostanzialmente si è verificata questa violazione del principio di parità di trattamento e anche una violazione della normativa comunitaria in materia di reiterazione dei contratti a termine e quindi è stata rilevata l'illegittimità di questa procedura di stabilizzazione laddove sono stati lasciati fuori dei soggetti che non avevano meriti inferiori rispetto a chi era inserito nelle GAE. La Corte Europea tuttavia ha tenuto conto delle soluzioni nel frattempo adottate nel nostro ordinamento quale per esempio il concorso straordinario ritenendole però non sufficienti. A questo punto ci si chiede anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea quale possa essere la soluzione per evitare delle sanzioni allo Stato italiano. La soluzione quella più utile, quella più aderente alle norme comunitarie sarebbe certamente quella di procedere alla stabilizzazione dei precari storici che abbiano almeno 36 mesi di servizio alle spalle per poter riequilibrare una situazione che certamente li vede fortemente penalizzati. Arrivederci.